Nel 2011 la preziosissima casa editrice milanese per la cura e la traduzione di Damiano Cantone e Lorenzo Chiesa ci regala questa chicca del filosofo Zizek, quello che ha anche su Prime, potete vedere la sua guida perversa del cinema e poi il suo documentario sulla politica, sono due documentari bellissimi, quello su guida perversa al cinema è veramente strepitoso cioè Slavoj che girottola in sfondo le scene, soprattutto uccelli, Hitchcock ovviamente e parla tutto, utilizza tutto il suo armamentario speculativo e filosofico per analizzare questi capolavori ma qui la domanda che si fa Zizek è Hitchcock è possibile girare il remake di un film? Zizek è uno tra i maggiori filosofi viventi, in Italia ha pubblicato fra gli altri il soggetto scabroso nel 2003, Iraq nel 2004, contro i diritti umani nel 2006, per le edizioni Minesis, ricordiamo l'isterico sublime del 2003 l'universo Hitchcock nel 2007 Zizek presenta Mao sulla pratica sulla contraddizione del 2009, il segreto sessuale della Chiesa nel 2010 The Matrix 2010 e nel 2011, l'anno in cui è uscito questo, anche Trotsky presenta terrorismo e comunismo ma qui stiamo nella riflessione esterica cinematografica del filosofo di Slavoj e appunto qui si domandano che cos'è l'Hitchcock's Touch quel quid indefinibile che determina la grandezza degli originali è un quid che sparisce anche nei remake migliori prendiamo per esempio il remake fotogramma per fotogramma di Psycho fatto da Van Zan nonostante Van Zan sia un bravo regista nel suo fine, nel suo psycho deficita, manca completamente quello che sappiamo riconoscere tutti come il tocco di Hitchcock quindi la grandezza, se si riflette Slavoj la grandezza degli originali sparisce sempre anche nei remake migliori ma, suggerisce sempre Zizek il fatto che lo stesso Hitchcock sia stato il più intelligente rifacitore di se stesso complica naturalmente però il quadro è davvero probabile la conclusione che i buoni remake siano impossibili? sentiamo direttamente cosa ci dice il filosofo a pagina 32, remake ideale quanto finora detto indica forse come dovrebbe essere girato un remake appropriato di un film di Hitchcock cercare di imitare i sintomi hitchcockiani è un esercizio votato anticipatamente al fallimento rifare remake, la stessa trama ha come risultato una specie di Shakespeare made easy rimangono così altre due possibilità una di esse è stata adottata nel 98 da Gas Van San paradossalmente sono propenso a considerarlo più un capolavoro fallito che non un semplice fallimento l'idea del remake fotogramma dopo fotogramma è sicuramente ingegnosa credo che il problema stia invece nel fatto che il film non abbia insistito abbastanza in questa direzione idealmente il film avrebbe dovuto raggiungere l'effetto spaisante di un doppio girando in modo formale lo stesso film la differenza che lo separa dall'originale sarebbe diventata ancora più evidente tuttavia quello che rendono di Hitchcock un film di Hitchcock naturalmente oltre all'impronta oltre alla firma dice Zizek sono proprio questi sintomi a fornire l'impronta specifica la densità sostanziale della struttura cinematografica dei film di Hitchcock insomma recuperate questo libretto per gli amanti del filosofo per gli amanti dell'estetica cinematografica sono 47 pagine è quasi un pamflet ma non lasciatevi ingannare dalla brevità perché ogni pagina è densissima e foriera di plurime riflessioni grazie a tutti